proprio lui siamo in live sto scherzando incredibile ragazzi incredible io solamente non ci arrivo vabbè ce la faccio comunque tu sei in casa lì vengo comunque di qua anzi apro questa apro questa qua sta cassa no dai il cerchino non si può guardare e far meno un po di legno questo questo ok è dove cazzo è sopra non posso oh mio dio mattei mattei no mattei ho fatto no 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 ho fatto una kill mattei ho fatto una kill col cerchino in quickscope uno fuori dalla finestra che mi ha sparato e l'ho preso in qua e guarda questa la quickscope va bene aga isa fa la galera la ciclo se c'è ragazzi bentornati sul canale di messi youtube siamo qui oggi su forte niente di matteo scusami scusa scusa matteo perdona perdonami mia vita loca l'ultima casa c'è uno ce n'è sì c'è un bel po non ce la faccio penso che penso che devo andare o mio dio ce l'ho fatta un mitraillatore pompa no mitraietta ok dammi un pompa fucile va un po fucile non fai dare scudo pompa beh mamma mia che bellutto ok ma che l'ha visto lì ho levato un botto ancora quasi a morire non c'ho più materiali non c'è così ragazzi aveva capito la vita dov'è ecco io però le trappole messa la trappola lui la messa tua lui uscita perché vuoi essere che vorrei fa faccio il doppio pompa l'amica dove sta sarà quest'altra parte è questa amica dove sta sinistra ancora altra casa non c'è niente quindi qua c'è un medikit la porta al posto il mitaglione o matte qualcuno si è buttato con la bomba si è stato tu no 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 giura dove l'ha sviluppo detto qualcuno si è buttato la bomba ho sentito eccolo qua qua ok è morto vabbè era abbastanza nabbo è seconda casa non so dove cazzo era non lo so se sincero di giù e buon cu fide lo zio attenzio che dice sali saremo lì in questa nuova zona della mappa là mi fullo mi fullo mi fullo il fumo si fra lei si fulla ha capito proprio bene ha capito è incredibile la quantità di funghi che c'è qua e ho messo bene a parco la sicura c'è qualcuno qua parco questa da di fronte a noi dai ma l'ho mirato in testa non è entrato l'headshot oh è lui che va via andati via c'è un altro qua è morto vabbè rubato la kill non fa niente solo che sono in due fa ballare spazio ok è morto sali 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 dai 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 let's go non l'hai luttato quello la di prima e poi ce l'ha il tempo però vabbè jetpack sai che lo vorrei prendere setback ma però può servire un sacco di modi che c'è quello lì io andrei a pinnacolo non c'è chi non mi serviva ma qua sopra questa volta sta scala bene che mi chiedo tanto c'è nessuno ha poi sceso da questa capito boh o mio dio qua qua giù che c'è riesce a due pesanti due pesanti di cucini da meno se c'è un altro tac davanti se non facciamo questo secondo di così allora abbiamo già perso è andata male ma come quelle potenti me le tira da solo si raga lasciate like per un prossimo episodio mi serve un cecchino amata youtube il resto non posso dire niente ma te però però io non ho capito se ha giocato a due non c'è chi non qua ci non possiamo attaccarli che facciamo da da seminotto adesso salgo qua sopra io c'è la faccio io faccio giuro da dietro ma sono qua giù ma te giù da mia oh dov'è l'ho uccisi ma che cazzo stanno facendo qua dai questi hanno un cecchino però ok mi devo il pomo ok c'è qualcuno qua a te c'è qualcuno qua stanno faietando non c'è abbiamo razzi lancerati no se a questa casa a sinistra 1 e 1 salì 1 ea 75 1 a 75 1 alla montagna per caso si ok 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 posso trovare davanti si questa si sono qui senta sono dietro di te what ma te sei tranquo vittato 1 vai spingi spingi no sono morto vindo sui due scudini aspe sto andando in safe io sento che ce l'hai lì bene no no guarda non costruisce sei lì sopra ok siamo in vantaggio devono venire loro a re tra due vabbè devono venire da noi quindi finire terra terra vabbè l'ultima è rimasta terra 1 eh vabbè ora è morto eh abbiamo vinto eh eccolo bravo faccio 360 eh noo Matteo noo vabbè faccio il 360 l'ho preso in buco faccio il 360 incredibile me l'ho trovato in faccia cazzo voi vabbè raga vittoria quante vittoria non tantissime kill in realtà l'ho fatto io 4 kill 4 tu anche 4 5 non tantissimo però vabbè una buona vittoria ci vediamo alla prossima ragazzi se vi piaciuto il video mi raccomando un like bella a tutti da alfix album a te youtube ciao